Ben ritrovati a Motore Salute, vi ricordo il nostro numero di telefono, cui potete telefonare per consigli anche sulla kinesiologia. Ed è tornato con noi Alessandro Soi, kinesiologo, grazie per essere qua. Grazie a te Giulia, grazie a tutti. Allora, abbiamo parlato in puntate precedenti di che cos'è la kinesiologia, di qual è la corretta postura. Questa sera vorrei sapere da te come dobbiamo esercitarci in casa per una corretta postura e per far contento il kinesiologo. Ok, perfetto. Che speriamo serva a far contento il kinesiologo. Assolutamente sì, più che altro facciamo contenti il nostro corpo, più che il kinesiologo, che tendenzialmente è il capo più fiscale che abbiamo. Certo. Allora, gli esercizi più indicati per una corretta, chiamiamola, igiene del movimento sono essenzialmente di due tipi. Quindi andiamo a lavorare sulla mobilità, sì, le articolazioni e sulla stabilizzazione del cosiddetto core, ossia il corsetto lombo-addominale. Quindi tutta questa fascia. Lo chiamiamo corsetto perché andiamo già per scontato di avere un po' di adipe, un po' di grassizia. No, 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 più che altro perché proprio la natura di questa zona anatomica è simile a quella di un corsetto, ossia sostenerci e scaricare nella maniera corretta le pressioni e le forze che il corpo umano sviluppa normalmente. Tenere questa zona, che sarebbe quella degli addominali, in forma non è banale? No, non è semplicissimo e più che altro spesso la vediamo allenata in una maniera che non è quella migliore, non è perfetta, perché spesso la vediamo allenata con un movimento. Quindi il classico addominale, io vengo su, tocco i piedi piuttosto che tocco il pavimento, alzo le gambe. Ti diciamo che è già meglio che niente? Meglio che niente di sicuro, soprattutto se lo facciamo nella maniera corretta. Però, se vogliamo dare quel qualcosina in più, sarebbe meglio allenarla in un altro modo, ossia stabilizzando una posizione. Che vuol dire? Detto in maniera molto semplice, andare ad assumere una posizione che può essere con le mani a contatto col suolo, i piedi, le gambe dritte, stese e i piedi a contatto col suolo, cercando di avvicinare la zona delle coste e la zona del bacino, quindi quasi come se mi andassi a chiudere. In questo modo vado ad attivare nella maniera migliore tutta questa zona qua, ossia parte addominale e parte lombare, secondo quella che è poi la sua funzione principale, ossia stabilizzare il tronco rispetto a movimenti non desiderati. Beh, non è che proprio tutti lo possano fare. Eh, diciamo che così, senza neanche uno sguardo esterno, non è semplicissimo. Però su YouTube, su Internet si trovano degli ottimi tutorial, quindi con un pizzico di buona volontà. Ma una signora settantenne che non ha mai fatto sport può farlo? Sì, possiamo farlo. Ci sono tantissime regressioni e progressioni. Quindi si può partire da un movimento molto, molto, molto semplificato e poi nel tempo andare ad aumentare il carico. Ad esempio, qual è il movimento semplificato? Il movimento semplificato è semplicemente, anziché appoggiare il piede, vado ad appoggiare le ginocchia. Questo riduce la leva che andiamo ad applicare sulla zona del tronco e quindi diminuisce di molto il carico che la persona va a sentire. Quindi in genere si parte così e poi si evolve. Quindi consigliere ai nostri telespettatori allenati di provare... Di provare la versione sui due gomiti, che sarebbe l'ottimo. La versione sui gomiti e con i piedi sollevati? Con i piedi a contatto col pavimento. Completamente a contatto col pavimento? Sì, le punte in appoggio. Ma potremmo anche azzardare di provare. Potremmo azzardare le varie esecuzioni, se mi date l'occhio. La prossima volta lo facciamo. Va bene, la prossima volta ci attrezziamo e lo facciamo. Assolutamente sì. Uno. Altri esercizi? Allora, come dicevamo prima, quindi mobilità, stabilità. La mobilità delle articolazioni la andiamo a fare semplicemente cercando di muovere ogni articolazione, quindi caviglia, anca, spalla, sono le tre principali. Il ginocchio è già un po' più complicato, quindi è meglio lasciarlo da parte, però caviglia, anca e spalla le andiamo a mobilizzare in una maniera lenta e controllata. Ad esempio, questo è molto facile, posso farvelo vedere sulla spalla, cerchiamo di bloccare il torace e ruotare con il braccio in maniera molto 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 lenta, cercando di andare a sentire dove trovo i blocchi articolari. Che tutti abbiamo. Che più o meno tutti quanti abbiamo, sì, chi più chi meno. E quando troviamo il blocco? Quando troviamo il blocco, l'idea è non forzarlo, ovviamente, quindi non andiamo a fare muro contro muro col nostro corpo, non è mai la cosa migliore da fare, ma mantenendo sempre una corretta respirazione, quindi non devo bloccare il respiro, cercare di girarli attorno, ossia se ho un blocco qua, esatto, stringo leggermente e passo col braccio. Con la gamba lo stesso? Con l'anca lo stesso, con la caviglia uguale. Questo vale per le persone ovviamente in assenza di patologie importanti, poi nei casi di patologie appunto bisogna valutare la situazione, ma come consigli generali per la salute articolari sono dei buoni esercizi. Allora, ammesso che mancano ancora 4 minuti alla fine di questo spazio, se vogliamo provare l'esercizio a terra, credo che la nostra regia ci segua in tal senso. Sì, ci dà l'ok. Ci dà l'ok, ci dà l'ok. Lo proviamo. Proviamo, proviamo. Ok, premettiamo che le scarpe non sono le migliori. Quelle giuste, la prossima volta verrai con le scarpe da ginnastica. Vengo in tutta e scarpe da ginnastica. Allora, vi faccio vedere subito la variante quella per gli atleti, chiamiamoli così. Allora, devo andare a posizionarmi in questa posizione, il gomito è sotto la spalla, stendo un piede, stendo l'altro. Da qua appunto mantengo la posizione. Per la signora Maria, chiamiamola così, che non può andare a sostenere tutto questo carico, la versione semplificata è in appoggio sulle ginocchia. Sì. Quindi, metto l'appoggio sulle ginocchia, stendo addirittura il braccio e a questo punto io sto già mantenendo una posizione. D'accordo? Quindi devo cercare di chiudere questa zona, attivare bene la muscolatura addominale. mantenere la posizione. Questo è il livello base che tutti quanti possiamo fare. E attraverso, quante volte dobbiamo farlo? Quanto dobbiamo stare e quante volte dobbiamo farlo? Ok, il consiglio che noi diamo sempre in studio, ai clienti che vogliono fare qualcosina a casa è fare una prima fase di mobilizzazione delle articolazioni, quindi spalla, anca, caviglia e poi andare a fare questi piccoli esercizietti per una trentina di secondi, quindi trenta secondi di esercizio, un minuto massimo di recupero, soprattutto se siamo allenati possiamo ridurre il tempo di recupero e ripetali per quattro, cinque volte, è un buon viatico. Tutti i giorni? Tutti i giorni, visto che il monte di tempo è piccolino, penso sia una cosa assolutamente gestibile da tutti. Altro? Un'altra cosa che possiamo fare è cercare di fare allenamenti a corpo libero. È una cosa molto facile, tutti quanti possiamo farlo, soprattutto se riusciamo ad eseguirli nella maniera corretta, il che vuol dire non esagerare rispetto alle proprie potenzialità, ma cercare sempre di semplificare all'inizio il movimento. Faccio un esempio. Se non ho un corretto appoggio del piede, quando vado a mettere tanto carico, per esempio mi accoscio, che è il termine squat, sarebbe il termine tecnico, quindi vado a fettare le ginocchia per sollevare qualcosa da terra, tenderò a mettere il carico sul piede o all'esterno, o troppo all'esterno, o troppo all'interno. Non è la cosa ottimale. Quindi cerchiamo di, ad esempio con una sedia, teniamo l'appoggio sulla sedia in modo tale da non avere problemi di equilibrio e riuscire a scendere nella maniera corretta. Questo qua può di nuovo essere un buon esercizio di partenza per le persone. È pericoloso esercitarsi a casa? È pericoloso se ci muoviamo nella maniera scorretta, perché instauriamo delle abitudini. Nessuno ci corregge. Esatto, nessuno ci corregge, non riusciamo a vederci, quindi instauriamo delle abitudini di movimento che poi non sono le migliori. Quindi il consiglio che tendenzialmente io do è fare un paio anche solo di sedute con un professionista che imposti bene i movimenti e poi da lì si viaggia in autonomia e si prosegue da soli a casa senza nessun problema. Quante volte si deve dire dal chinesiologo? Allora, dipende un po' dalla condizione di partenza, ossia se io ho già una buona competenza, chiamiamola così, competenza motoria, in un paio di volte uno imposta tutto quanto e si viaggia assolutamente in autonomia. Se invece provengo da un passato motorio non così vasto, non così brillante, esatto, ci vuole un pochino di più, ma tendenzialmente in una decina di sedute massimo si fa già un ottimo lavoro, si riesce già a dare… Tutti possono iniziare a far movimento? Sì, assolutamente sì, a meno che non ci sia ovviamente la presenza di traumi acuti che ci impediscono… Però passeranno. Però passeranno, il dolore passerà grazie al fisioterapista che lavora col chinesiologo. Quindi anche persone che ad esempio siano in carrozzina debbono far movimento? Sì, diciamo che esattamente è una cosa che si è visto avere degli ottimi risultati sia in termini proprio di, chiamiamola, salute fisica, ma anche di salute mentale, ossia non perché ci siano problematiche, ma perché dà proprio quello sprint in più e quel recupero di convinzioni nelle proprie capacità che le persone… e alle persone serve, si è visto che serve molto. Quindi tutti possono muoversi. Piccola pausa, grazie dottor Soi. Buonasera e benvenuti a Motore Salute Tg. Benessere, la parola chiave è fitness. L'importante è muoversi. Quello che conta è svolgere attività fisica, anche leggera, almeno mezz'ora al giorno. Ciò risulta dallo studio di un gruppo di cardiologi americani. Dalla camminata al nuoto, dalla bicicletta alla ginnastica, le linee guida, oltre a quelle internazionali, quelle americane, raccomandano di svolgere un'attività fisica di intensità moderata per almeno 150 minuti a settimana, circa 30 minuti al giorno, quasi tutti i giorni, oppure 75 minuti a settimana di attività vigorosa per ottenere un vantaggio rilevante per la propria salute. L'esercizio fisico allunga la vita, riducendo il rischio di morte. Secondo i dati dell'OMS, in Europa ogni anno un milione di decessi, circa il 10% di quelli totali, sono dovuti alla mancanza di attività fisica. Quanto fa male star seduti troppo a lungo? Una ricerca ha collegato lo stare seduti per lunghi periodi di tempo a diversi disturbi, tra cui l'obesità e la sindrome metabolica, ma non solo. La sedentarietà sembra anche aumentare il rischio di morte per malattie cardiovascolari e cancro. Lo stare seduti crea anche piccoli disturbi, per esempio dopo aver mangiato comprime i muscoli addominali e rallenta la digestione, portando talvolta a carampi, bruciere di stomaco e costipazione. Quando si sta seduti il sangue scorre più lento e i muscoli bruciano meno grassi, ciò può favorire problemi cardiocircolatori. Per questa sera è tutto, io passo la linea allo studio. Grazie. Grazie a tutti.